La mia settimana poi è proseguita in un viaggio che mi ha portato ad andare a Milano nel primo pomeriggio di mercoledì in Bicocca, quindi in università, per andare a fare un incontro su un po' la mia esperienza imprenditoriale, come ho utilizzato i social in un settore come l'agricoltura. E devo dire che è stato molto molto interessante avere a che fare con gli studenti, è stato più che una lezione frontale un dialogo aperto. È bello vedere più di tutto un sacco di competenze e soprattutto un sacco di menti che pensano, che studiano e che provano a capire quali saranno i nuovi settori del domani. Veramente molto interessante.